Sarà la doppia sfida con la Cali Roma sul Diamante di Via Emilia a calare il sipario sul campionato di Serie B della Catalana Baseball. Una stagione da incorniciare non solo per la salvezza raggiunta con tre giornate di anticipo, ma anche per la sfida, vinta, di riportare il baseball al Gherese nel baseball che conta. Nelle ultime due uscite, entrambe fuori casa, la squadra di Contini ha guadagnato un buon pari sia contro la Montofiascone, sia contro la capolista Lupi Roma, già pronta per il salto di categoria. Domenica scorsa contro la Lupi Roma la Catalana ha giocato alla pari nel primo match conclusosi sul punteggio di 6-5. Bene Meloni che per l'occasione è stato schierato come pitcher, autore anche di due valide insieme a Ivan Adelmi. La seconda gara vinta dalla Catalana 6-2 ha avuto come soliti protagonisti i lanciatori Nicola Zidda e Giovanni D'Amico con 5 strikeout a testa, mentre ben 10 sono state le battute valide realizzate complessivamente con due battute a testa per Angioni e Shosh. L'appuntamento per le ultime due partite del campionato è per domani alle 11 nel Diamante di Maria Pia con gara 2 che si disputerà 30 minuti dopo la conclusione di gara 1.